Ciao a tutti, finita Nantes-Juventus, la Juventus ha vinto 3-0, quindi questo gli permette di superare il turno di Europa League. Partita che, a dire la verità, subito si era messa un po' in difficoltà, nel senso che al quarto minuto Bremer deve murare un'azione del Nantes che poteva diventare molto pericolosa. Però, dopo un minuto, la Juventus ribalta la situazione e con un bellissimo gol di Di Maria, che con un colpo a giro, dopo un assist di Fagioli, mette la palla dove il portiere non poteva arrivare sotto l'incrocio dei pali. Primo gol ed è già esultanza. Il Nantes ci prova a reagire, ma la Juventus è concreta, una Juventus molto convinta e concentrata. Questa è la cosa migliore. Infatti, sempre Di Maria, che è stato protagonista assoluto di questa partita, con un colpo di tacco, manda la palla verso la rete. Arriva però Palois, giocatore del Nantes, che ferma la palla con la mano. Ovviamente rigore, ovviamente espulsione, chiara occasione da rete. E quindi il Nantes rimane in 10. La Juventus va a battere rigore con il solito, come abbiamo già detto, Di Maria, che è stato protagonista assoluto, con una tripletta, e segna. Siamo 2-0 e sono passati poco meno di 20 minuti. Il Nantes cosa fa? Ci prova. Ci prova perché è comunque l'unica cosa che può fare. Davanti a un tifo clamoroso. Sono veramente tantissimi tifosi del Nantes che hanno festeggiato e ballato comunque per tutta la partita e hanno accolto, diciamo, non dico con un'ovazione, ma sicuramente con rispetto i loro giocatori, anche dopo un 3-0, che poteva essere sicuramente deludente. La partita continua per tutto il primo tempo con una Juventus che controlla benissimo la partita, rischia anche di fare gol e si va a fare il riposo. Arriva però, arriva al palo di Kostic all'inizio del secondo tempo. La Juventus continua a macinare. Il Nantes non fa altro che schiacciarsi, anche perché comunque è l'uomo in meno. La pressione dei giocatori della Juventus, che comunque rimane molto alta, e di conseguenza il Nantes ci prova un paio di volte, niente di più. Arriva però al 78esimo la tripletta, come abbiamo detto di Di Maria, che dopo un'azione insistita con un paio di tiri riesce a colpire il pallone di testa. Il portiere la para, ma ormai è dentro la porta, si usa il check-goal, se non mi ricordo male si chiami, e siamo 3-0. Juventus vince in tranquillità, da lì in poi c'è poco altro da dire, se non diverse sostituzioni. Esce Di Maria, Danilo e Kostic, dentro Eling Junior, Bonucci e Paredes. Ma la partita ormai di fatto è finita, peccato che Quadrado si vada a prendere il giallo inutile all'87esimo, ma qui siamo un po' così. Va bene, 3 minuti di recupero, la partita però finisce abbastanza tranquillamente, perché dopo il gol veramente il Nantes tira su gli ormeggi e se ne va, già convinta di non riuscire più a recuperare una partita che ormai si era messa troppo in salita. Detto questo, andiamo al prossimo turno. Le italiane stanno facendo un'ottima giornata di coppe in Champions League. Tutte le squadre italiane hanno vinto, hanno vinto l'Inter, che non era assolutamente scontato. vince il Napoli, anche in questo caso non partita scontatissima, e vince anche il Milan. Insomma, tre partite, tre vittorie in Champions. Adesso si sta giocando Roma, Roma non mi ricordo chi, comunque ci sono varie altre partite, le italiane saranno decisamente bene, per quello che ho potuto vedere. Detto questo, vi saluto, ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti! Ciao a tutti!